bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video oggi ragazzi siamo qua su clash royale perché è successo un casino è successo gli ho detto amo vieni qua che facciamo la registrazione del baule leggendario e guardate e mi dice a me dove è il baule leggendario cosa vuoi da me porca gnoffa mi è sparito il baule leggendario dagli slot liberi ho detto impossibile che il baule leggendario è sparito se lo sarà aperto da solo ma cosa vuol dire comunque ragazzi vuol dire che ogni tanto a me succede che mi si apre clash da solo magari prendi dentro e involontariamente te l'abbia aperto porca di quella porca ragazzi la leggendaria è arrivata facciamo come se stesse arrivando a leggendaria poi diciamo cos'è adesso vi faccio vedere ragazzi la leggendaria che è arrivata chi la indovina chi la indovina trova la leggendaria arrivata ragazzi guardatela tu hai capito quella leggendaria che è arrivata te lo sai la popi lo sa se tu sai quella leggendaria mi raccomando lascia un bel like che sei un really big dai clicca sulla leggendaria che mi è arrivato però te è arrivato il secondo fantasma royal potenziabile a 5000 però ragazzi oggi io volevo fare una cosa siccome comunque un cestino ai ragazzi glielo facciamo ho deciso ragazzi di aprire un baule cagliante perché se te c'è giù da soli ante nello shop però prima però prima facciamo la nostra consuetà partitina sia lì a 4500 no quello lo apro in live lo apro in live per i ragazzi che lo stanno aspettando siamo contro iva no di german empire 2 l'unica cosa che dovevo leggere io ah scusa ok te li lascio leggere te li lascio leggere commenta la cosa fai un po di commento quello fuggoso della partita ecco ti ha messo Giulia Cerri uno apre la derece e l'altro le chieda orca vacca lei parla italiano se non vediamo ora così ragazzi per attraerla attenzione è certo che la sua scarichetta amica mia amore mio attenzione le banane le banane attenzione c'è la grader al 10 viene è l'ho visto l'ho visto l'ho visto però possiamo rispingere io provo provo a spingere sempre di dimmi con c'è la frizzacchiona dimmi con la frizzacchiona il mini entra il mini per un pelo non entra ragazzi fa niente è entrato lo grider guarda gli arcieri guarda gli arcieri hanno fatto malissimo al primo barbaro gli hanno fatto troppo male e lo fermiamo lo fermiamo hai visto i due arcieri quando entrano con la furia porca come corrono di brutto figurati uno grider nella furia quanto corre di bestia tirare anche una legnata alla torre 1926 ragazzi attenzione non abbiamo fretta lui giocherà nuovamente lo grider mettiamo lo mette pipi esatto sempre da dietro sempre da dietro esatto 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 perché stare insieme gli fa schifo oh e lui e qua sbaglio io forse e qua sbaglio io beh qua andrei a fare una roba del genere molto pulita una roba del genere altrettanto pulita ed eventualmente parto col suino parto col suino il principe nero eh ma il principe nero eh ma pensavo seguisse il suino pensavo no quando è avanti no quando è avanti non torna più indietro ma non è vero ma non è vero eh non è non è non è assolutamente vero non è il clostino sì 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 aspetta un attimo 3.25 1.542 difficile ero convinto che il principe nero la prendesse tra l'altro lui mi va a fregare col vortex il maialino va bene non c'è problema non c'è problema aspettiamo che arrivi aspettiamo ok lui va di fireball addirittura aspettiamo ancora un istante e adesso via e adesso via col suino ragazzi via 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 col suino via col suino fermato da una gang ovviamente perfetta ovviamente il problema della partita persa si sta incominciando a sentire in maniera abbastanza evidente molto problematica l'assito oh addirittura con la furia lui addirittura questo gioca con vortex è furia adesso dovrebbe vortexar me li vediamo se possiamo entrare col suello il maiale riesce non c'è problema non c'è problema non c'è problema perché io lo vado a ciclare io lo vado a ciclare log rider forza 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 non ce l'ha il vortex adesso non ce l'ha il vortex adesso grader che entra attenzione al principe nero andiamo a zappare aspettiamo la fireball 700 316 6 5 4 3 2 non ci posso credere se l'avessi avuto ciclata la zappa l'avrei vinta l'avrei vinta maledizione maledizione di fortunella qua dai beh qua l'avevo ribaltata bene l'aveva ribaltata la situa andiamo ad aprire ragazzi il cangiantello o ne facciamo un'altra ne facciamo un'altra e poi apriamo il cangiantello dai che così droppiamo a 4.800 no dai cosa la devo vincere questa la devo vincere dai per favore sostieni sostieni siamo contro amir dei gaza state esatto esatto la tua pronuncia a volte mi spiazza attenzione ancora attenzione ancora una tecchio rassa una tecchio rassa gli scappa la cacca via così via 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 ma io non volevo dire la seconda cosa non è fine bene così bene così oh eh ma che sfortuna tutti col vortex eh ma che sfortuna siamo veramente ce l'ho il deck col vortex ce l'ho il deck col vortex ma non attenzione riescono ad andare sul mini beh non mi interessa perché gli arcieri fanno parecchio male ragazzi guardate guardate 1.7 3 1.6 e 22 1.6 e 1 siamo lì siamo lì eh siamo lì e io gli volevo gli volevo dire sei veramente un feb gli volevo dire però non glielo diciamo dai che andiamo dai che andiamo ragazzi spara log rider non scarica log rider scarica il bocciatore vado io vado io tanto il bocciatore indietro il bocciatore indietro bene così log rider bene così viene fermato dal boiazzo ok 1.238 una sola una sola hit per log rider ma c'è anche male c'era una bestia sopra aspetta un attimo aspetta un attimo e fu cosa devo fare c'era una merda di cosa che camminava sopra ragnetto non era un ragnetto era un cosa che puzzava madonna allora la cimice che ti fa la cimice aspetta un attimo aspetta un attimo grande grosso come sei la cimice mi cripta quello che dico bene così incredibile incredibile di nuovo incredibile di nuovo tiragliele uno suino tiragliele uno bravo suino mio bene così ragazzi 8.54 questi qua non mi interessano questi oh la zap però con che ritardo è scesa la zap con che ritardo è scesa questa zap vediamo c'è stato il terrore poco fa c'è stato vediamo se riusciamo a farci ragazzi molto problematica panico paura panico paura lui sa lui sa ragazzi è il bocciatore il bocciatore esatto così è un buddha eh sì è un buffo più che un buddha vediamo se riusciamo ok bene che me l'ha lisciato bene che me l'ha lisciato e lui tira il vortex lì non ci credo non ci credo prende per un istante ma che sfigato che sono ma che sfigatissimo che sono il suino passa non gliela tira non gliela tira 7,63 non mi interessa attento un secondo suino ma quanti ce n'è di di bucciatore ma li caga fuori come se fossero no soli anche io imbloccato il suino te lo fa passare no adesso dovrebbe arrivare anche lui col suo attenzione eccolo 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 andiamo a congelare non è aia non è aia bene così bene così andiamo a fermare il suino maiale riesce a tirarla riesce a tirarla non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo che sfortuna che sfortuna veramente doppio vortex bocciatore che va a bloccare non ci posso credere maledizione maledizione 4.484 avevamo chiamato il drop direi di andare a fucilarci 250 gemme per vedere se nel cangiante c'è qualcosa di interessante ragazzi non ci credo maledizione maledizione andiamo a tropparcelo con 250 gemme 4 skips 630 di gold attenzione così ragazzi attenzione può cambiare 103 tesle queste non queste non buah 20 scaricuccioli molto bene molto bene e 2 congelamenti adesso noi possiamo fare dei cambi beh sono propenso a cambiare le comuni perché le epiche non mi interessano sinceramente eh sì voglio cambiare vai cambiamela tu la tesla cliccaci sopra vediamo se c'è qualcosa di buono non mi interessano tirameli via tirameli via vediamo un po' se arriva qua ahhh tirami via anche il royal non mi piace non mi piace e ho capito ma devo prenderlo io speriamo che l'ultima sia buona speriamo che l'ultima sia buona e arriva il 103 parabri non fanno schifo ma speravo in qualcosa di meglio i 20 scaricuccioli invece li ho voluti appositamente tenere perché e le due gelo con lo guider ci stanno non le uso ma ci stanno peccato 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 beh ragazzi direi che anche per oggi il video può considerarsi finito mi raccomando se vi piace lasciate un bel like ragazzi iscrivetevi al canale e attivare la campanella per essere sempre informati grazie a tutti ragazzi per averci guardato ciao Ciao!